Musica Etg più today buongiorno e ben ritrovati con il nostro appuntamento del mattino come sempre saremo insieme fino alle 11.30 tantissimi temi che toccheremo nell'arco della mattinata uno tra tutti in primo piano la politica in apertura dei principali quotidiani online ritorna appunto ancora una volta sul tavolo la discussione che riguarda i migranti in Albania ancora una volta una decisione che il governo appunto ha voluto attaccare in particolare lo stop al trattenimento di sette migranti nel centro in Albania se ne è discusso tantissimo abbiamo visto posizioni all'attacco duro botte e risposta tra maggioranza e appunto opposizioni arrivati a brindisi nella notte l'ira del governo come vi dicevo tre ragioni per convincere i giudici europei la decisione arriva dal tribunale di Roma sempre alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea Salvini dice sentenza contro gli italiani poche settimane fa era successa la stessa cosa e ne abbiamo parlato con altri 12 migranti adesso arriva dunque un nuovo stop con la replica ovviamente del governo guidato da Giorgia Meloni la decisione è quella del tribunale di Roma la notizia è in apertura dei principali quotidiani online siamo sul Corriere della Sera che dedica un ampio spazio proprio ancora una volta alla notizia dei migranti poi ancora sull'ANSA invece il primo piano è dedicato all'audizione al Parlamento Europeo del Ministro Fitto in corso appunto in questo istante non sono qui per rappresentare un partito o uno Stato ma l'Europa ha detto appunto Fitto agirò sempre e soltanto nell'interesse della nostra Unione e dei nostri cittadini per la prima volta un vicepresidente avrà un incarico per la coesione oggi voterei a favore del Next Generation UE la nostra astensione era una posizione di attesa queste sono le parole che arrivano proprio dal Ministro Fitto durante l'audizione al Parlamento Europeo ancora poi restiamo sempre sull'home page del Corriere della Sera parla Steve Bannon i soldi sono finiti se l'Europa tiene all'Ucraina ce li metta lei Meloni, Ponte con l'Europa non ci serve ancora una volta un articolo dedicato alla politica estera e ancora una volta si inserisce sugli scenari più delicati, più complicati che oggi tengono in banco ossia quelli dedicati appunto alle guerre in corso ma come sempre accade all'interno della nostra trasmissione oggi la nostra finestra sul territorio lombardo si apre da Pavia dove è collegata Elisa Santamaria buongiorno buongiorno Vittoria e buongiorno a tutti gli amici di ETG Today oggi siamo a Pavia, la città si sta svegliando raccoglieremo le voci dei passanti sulle notizie principali del giorno andremo in Piazza Petrarca dove si sta svolgendo il mercato per sentire cosa ne pensano dei fatti quotidiani a tra poco a tra poco allora con il collegamento da Pavia torneremo da te appena ci potrai richiedere la linea Elisa Santamaria e lo abbiamo visto il primo piano appunto dedicato allo stop al trattamento dei migranti del centro appunto in Albania arrivati a Brindisi durante le ore notturne quindi nel corso della notte una decisione come dicevamo che arriva dal Tribunale di Roma sempre alla luce della sentenza che è stata emessa dalla Corte di Giustizia Europea e Salvini è intervenuto immediatamente su quanto accaduto dicendo che è una sentenza contro gli italiani poche settimane fa era successa la stessa cosa una vicenda analoga che ha riguardato invece di 7 migranti 12 migranti ancora sull'home page un articolo che si inserisce nella politica estera nel dietro le quinte di cosa sta accadendo a livello politico per quanto riguarda l'Ucraina Mosca dice l'America vuole nuove elezioni in Ucraina per sostituire Zelensky a rispondere ovviamente a Kiev che dice pura propaganda e poi provvedimenti si torna a parlare di economia con tasse riapre il concordato c'è tempo fino al 12 dicembre manovra 4.500 emendamenti tre fasce detrazioni tutte le novità sull'IRPEF all'interno dell'articolo a scoprire quelli che sono tutti gli ultimi aggiornamenti in materia torniamo ancora all'articolo che invece riguarda lo stop dei migranti lo troviamo anche sull'Ansa nonostante la decisione in questo momento di aprire sull'home page con le parole del ministro Fitto in audizione in questo istante al Parlamento con le ultime dichiarazioni che arrivano appunto dal ministro che dice agirò sempre e soltanto nell'interesse della nostra Unione e dei nostri cittadini per la prima volta appunto una vicepresidente avrà un incarico per la coesione oggi voterei a favore del Next Generation dell'Unione Europea la nostra astensione era una posizione di attesa questo è quindi il commento che arriva in questi istanti andiamo a vedere l'articolo con tutte quelle che sono le ultime novità sull'audizione in questi istanti cinque anni fa ero seduto tra di voi ricordo il mio viaggio politico dal locale al nazionale a Bruxelles ho sempre lavorato per un'Europa più forte, più coesa è un onore per me sono pronta a mettere tutta la mia esperienza al servizio della Commissione è un onore che il mio governo mi abbia indicato non sono qui per rappresentare un partito politico o uno Stato membro ma il mio impegno è per tutta l'Europa queste appunto le parole del commissario designato Raffaele Fitta prendo il suo intervento introduttivo in audizione appunto al Parlamento Europeo agirò sempre e soltanto nell'interesse della nostra Unione e dei nostri cittadini per la prima volta un vicepresidente esecutivo riceve un incarico per la coesione questo dimostra quanto sarà importante la politica in questo mandato ha detto ancora fitto effettivamente appunto tanto di coesione si era parlato anche nelle ultime elezioni che hanno visto al centro l'Unione Europea la politica di coesione sta a cuore dell'intelligenza dell'integrazione europea gioca un ruolo fondamentale per ridurre le disparità tra territori e regioni i nostri cittadini sono al centro di questa politica lo sviluppo demografico dell'Europa è una grande sfida che dobbiamo affrontare insieme ha poi ancora spiegato fitto lavorerò anche sulla questione della casa in collaborazione con il nuovo commissario sarà un lavoro fondamentale poi ancora il modo migliore per andare avanti avere un dialogo aperto e costruttivo nonostante opzioni politiche diverse le nostre storie diverse sono la nostra forza ha continuato l'Europa è casa nostra abbiamo la responsabilità comune di lavorare a favore del benessere dei nostri cittadini e poi ancora la politica di coesione dell'Unione Europea serve per raggiungere i nostri obiettivi climatici concordati la politica di coesione va semplificata deve essere più flessibile e trasparente abbiamo bisogno di una politica basata su tre punti riallacciare il rapporto con le autonomie locali con scelte che riguardano i singoli territori poi avere una governance multilivello e di partenariato e infine la politica di coesione che deve rispondere alle nuove sfide a cui siamo chiamati dice fitto quella climatica digitale e demografica questo in sostanza appunto le parole che arrivano da fitto nell'audizione al Parlamento Europeo ma torniamo a Pavia da Elisa Santamaria Sì perché commentiamo insieme la prima pagina del Corriere della Sera anche qui grande spazio alla questione migranti lo stop dei giudici Meloni attacca la sinistra su Bologna i sindacati frasi senza precedenti dopo Catania anche il Tribunale di Roma non convalida il trattenimento in Albania l'ira di Salvini e poi il governo sbaglia sul corteo chieda scusa parla Bonaccini il prefetto manifestazione il sindaco Lepore era informato e poi aveva 96 anni Piazza Fontana addio Alicia la vedova Pinelli il prossimo 15 dicembre saranno trascorsi 55 anni dalla morte del suo Pino che lei ha difeso per tutta la vita addio Alicia Pinelli 96 anni moglie dell'anarchico morto durante gli interrogatori per la strage di Piazza Fontana in questura a Milano e poi il delitto di Giulia Tramontano la sentenza è attesa per il 25 novembre l'EPM in Pagnatiello perché abbiamo ricevuto una telefonata così prendiamo la chiamata pronto buongiorno e poi torniamo da te pronto pronto si mi dica ha chiamato lei si ah niente volevo dire una cosa se è possibile buongiorno intanto buongiorno prego ma l'Italia e l'Europa purtroppo sono entrati in un periodo di caos totale dove occorrerebbe specialmente per la casa fare un piano Marshall e per fare un piano Marshall ci dovrebbe restare la coerenza totale di tutti gli stati che fanno parte dell'Europa certo altrimenti non vedo proprio come si potrà uscire o diventare competitivi con gli altri continenti o con le altre nazioni che o meno male una potenza economica ce l'hanno e le esprimo questo è anche quello che volevo dire grazie grazie buona giornata un piano Marshall per la casa un momento dedicato che sta attraversando l'Unione Europea ecco anche le parole l'ottica in cui vanno lette le parole di fitto durante l'audizione al Parlamento Europeo è ovviamente un invito alla coesione torniamo alla rassegna stampa cartacea con Elisa Santamaria siamo da te eccoci sì alle mie spalle il Duomo il processo stavamo parlando del delitto di Giulia Tramontano la sentenza abbiamo detto è attesa per il 25 novembre le PM in Pagnatiello merita l'ergastolo la morte di Giulia hanno detto i PM in assise a Milano è un viaggio nell'orrore quando è rimasta incinta ha firmato la sua condanna a morte chiesti l'ergastolo e 18 mesi di isolamento diurno per Impagnatiello ricordiamo che Alessandro Impagnatiello ha ucciso Giulia con 37 coltellate e poi globalizzazione populisti e il popolo sovrano andiamo agli esteri Ucraina Trump Junior contro Zelensky Mosca bombarda anche le dighe non ci fermiamo Mosca smentisce la telefonata fra Trump e Putin e intensifica gli attacchi allarme aereo a Kiev e pioggia di bombe dopo la battaglia dei droni delle scorse ore con decine e decine di apparecchi ucraini abbattuti i bombardieri russi continuano a sorvolare i cieli di Kiev vittime anche a Crivi ri la città di Zelensky e in merito ai fondi americani Donald Trump Junior scrive sui social 38 giorni poi basta paghetta Zelensky l'intervista Steve Bannon i soldi per Kiev sono finiti se l'Unione Europea ci tiene li metta lei i soldi sono finiti dice Steve Bannon già stratega del primo Trump se l'Europa tiene a Kiev ce li metta lei e poi abbiamo il caffè di Massimo Gramellini scusate l'anticipo e ci fermeremmo qui ci spostiamo per raccogliere le voci a Pavia sulle principali notizie della giornata grazie Lisa torna ovviamente a chiederci la linea quando vuoi intanto tiene ancora banco anche a livello internazionale la questione dei migranti lo abbiamo visto una vicenda analoga a quanto è accaduto pochi mesi fa questa volta appunto il tribunale di Roma la sentenza vede al centro sette migranti del centro in Albania sulla questione appunto che vi dicevo ha preso oramai il respiro internazionale è intervenuto anche Elon Musk sul caso questi giudici devono andarsene dice commenta appunto sul social X la decisione del tribunale di Roma questi giudici devono andarsene così Elon Musk su X commenta un post di un utente che riporta la notizia della sospensione della convalida del trattenimento per sette migranti decisa appunto dalla sezione migrazione del tribunale di Roma che si è anche rimesso alla corte europea di giustizia lo abbiamo visto torniamo allora proprio alla questione siamo sul corriere della sera che riguarda appunto lo stop al trattenimento dei sette migranti in Albania sbarcati a brindisi durante la notte la decisione del tribunale di Roma alla luce della sentenza della corte di giustizia europea Salvini dice un'altra sentenza contro gli italiani di fronte all'incertezza amministrativa scaturita da dorme in contrasto di quale sentenza della corte di giustizia dell'unione europea di là il decreto governativo sui paesi sicuri i giudici della sezione migrazione scelgono di rinviare il quesito alla corte europea e sospendono la convalida del fermo di sette migranti cinque dal bang d'esce e due dall'egitto trattenuti in alberia il risultato è duplice da un lato i sette cittadini extracomunitari tornano in italia in barba alle intenzioni di rimpatri annunciate nel protocollo di Roma-Tirana una nave della guardia costiera li riporterà in un centro per richiedenti asilo in Puglia dall'altro prosegue ovviamente lo scontro tra maggioranza e magistrati esperti di immigrazione si svuota dunque per la seconda volta il centro di rimpatri albanese 800 posti nell'aspra campagna di Jader e in simultanea si nasprisce anche il clima politico tra governo e opposizione che abbiamo visto appunto in questi ultimi mesi per i giudici di Roma occorre tutelare i diritti internazionalmente riconosciuti anche in una situazione di particolare stress causato dalle dimensioni imponenti del fenomeno migratorio il tribunale si legge nel provvedimento relativo al caso di uno dei bengalesi ritiene che il diritto a un ricorso effettivo riconosciuto al richiedente asilo all'articolo 46 della direttiva 2013-32 sia espressione del più generale diritto alla tutela giurisdizionale effettiva garantita invece dall'articolo 47 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e poi ancora le garanzie primarie dei diritti individuali impongono di acquisire informazione e vagliare caso per caso l'applicazione di una procedura accelerata scrivono ancora le toghe appare incompatibile con l'esistenza di situazioni di persecuzione discriminazione e maltrattamento come quelle relative a categorie di persone tali situazioni infatti emergono normalmente soltanto all'esito di un'approfondita istruttoria sulla situazione di ogni singolo richiedente protezione si chiude si chiude dunque con un secco no possiamo dire il primo era avvenuto lo scorso 16 ottobre al debutto proprio dell'accordo con l'Albania al rimprato di questi cittadini extra comunitari ovviamente il caso non si chiuderà qua abbiamo visto sono già arrivate le prime dichiarazioni politiche soprattutto dai vertici di maggioranza si è spesso il ministro Salvini che dice una decisione che va ancora una volta contro gli italiani seguirà ovviamente ancora dichiarazioni e commenti anche molto duri come accaduto lo scorso 16 ottobre un caso analogo in cui appunto di fatto veniva emessa la stessa sentenza e sul caso proprio albania abbiamo visto come si è intervenuto anche il fondatore del il proprietario del social x Elon Musk torniamo invece sull'ansa la long page il primo piano ancora dedicato alle parole di Fitto nell'audizione al Parlamento europeo parla di un'Europa che deve essere coesa anche guardando quelle che sono le sfide attuali non soltanto le guerre ma anche i rapporti con l'America alla luce delle nuove elezioni che hanno visto una schiacciante vittoria di Donald Trump e prosegue poi ancora ovviamente con la decisione del caso Albania i sette migranti sono rientrati in Italia dall'Albania il tribunale di Roma sospende il provvedimento e poi torniamo a parlare ancora di sanità l'ennesima aggressione al personale sanitario colpito con un manganello aggredito al primario del pronto soccorso di Lamezia Terme purtroppo non si tratta di un caso isolato sempre più spesso oramai sentiamo parlare di aggressioni all'interno degli ospedali e dei pronto soccorso in questo caso appunto è stato aggredito il primario con un manganello stiamo parlando del pronto soccorso di Lamezia Terme e poi ancora un articolo invece che ci porta a parlare di economia ci porta a parlare di turismo di turismo invernale turismo ambientale in calo meno 3% previste 78 milioni di presenze l'emoscopica pesa il calo degli stranieri che si attesta su meno 5,2% la spesa invece cala del meno 4,4% andiamo a vedere allora l'articolo sull'home page dell'ANSA flussi turistici in Italia a lieve ribasso per la stagione invernale secondo le stime di demoscopica che l'ANSA pubblica in anteprima ammonterebbero a 26,7 milioni gli arrivi e a 78 milioni le presenze con un decremento dell'1,3% e del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente l'andamento appunto dei flussi turistici rispetto al 2019 però sarebbe stabile per gli arrivi meno 0,6% e in crescita invece per le presenze si parla appunto di un più 5,1% la spesa turistica toccherebbe 20,5 miliardi con un meno 4,4% rispetto all'inverno scorso a pesare in particolare su questo calo gli stranieri 11 milioni di arrivi meno 3,6% e 37 milioni di pernottamenti e qua raggiunge almeno il 5,2% va meglio invece sul versante del mercato domestico che rappresenta una quota del 59,2% del totale si registrerebbe con circa 15,8 milioni di arrivi una timida crescita ma con una flessione delle presenze stimate in 41,2 milioni per il 2025 quindi questi sono i dati le previsioni non purtroppo rosee per il turismo invernale torniamo a Pavia da Elisa sì siamo con Giovanni stavamo dando un'occhiata alla prima pagina del Corriere stavamo commentando la notizia legata al delitto di Giulia Tramontano uccisa da Alessandro Impagnatiello mentre si trovava al settimo mese di gravidanza stava aspettando un maschietto l'avrebbero chiamato Tiago però insomma questo non è avvenuto perché Alessandro Impagnatiello ha deciso di porre fine alle loro vite con 37 coltellate il PM ha chiesto l'ergastolo l'isolamento per 18 mesi cosa ne pensa? Beh penso che sia giusto così insomma non è non è bello per niente dover commentare notizie di questo genere tutti i giorni e dobbiamo fare anche noi di più io come papà lo faccio con i miei figli e desidero che crescano liberi da questi preconcetti da queste da queste categorie le persone non necessariamente le donne tutte le persone vanno rispettate nella loro interezza e nelle loro scelte nelle loro decisioni certo è difficile da immaginare il dolore che prova sia la famiglia di Giulia che anche quella di Alessandro che si è trovata in questa situazione sì il dolore delle famiglie è sempre inimmaginabile e tutte le famiglie dovrebbero imparare a crescere serenamente e come ripeto educare i propri figli affinché questo avvenga grazie mille Giovanni a te Vittoria grazie Elisa Santa Maria e noi continuiamo con la rassegna stampa online siamo sull'home page di Repubblica anche questo caso è dedicato appunto allo scontro tra governo e magistratura per l'ultima sentenza del Tribunale di Roma sul caso Albania il report in primo piano appunto su Repubblica operazione verità sulla missione Albania il fact checking su tutte le bugie del governo e poi ancora migranti in Albania avanti con i viaggi e contro ricorsi la doppia offensiva del governo i giudici non ci fermeranno e intanto appunto le notizie relative al nuovo stop invece che arriva dai giudici e poi il racconto i sette migranti rientrano subito in Italia il centro resta vuoto e poi l'Italia della destra lo scontro Mellone attacca l'epore se mi crede fascista non ci chieda aiuto ancora una volta si parla quindi di politica e poi ancora con i fatti di Bologna l'intervista al sindaco l'epore dice sbagliato scambiare collaborazione per obbedienza Bologna è stata oltraggiata e poi verso il voto Meloni guarda i sondaggi e diserta il comizio a Bologna e poi il caso che ci porta ancora a parlare di Matteo Messina Denaro la nipote avvocata appunto di Messina Denaro ora lavora al ministero dell'istruzione e questo il caso come titola Repubblica appunto per quanto riguarda delle notizie che arrivano ancora sul boss latitante Matteo Messina Denaro temi e protagonisti della politica la commissione oggi appunto la nomina di Fitto in Europa divide la maggioranza Ursula e poi il nuovo comandante dei Carabinieri verso un'intesa sul nome di Luongo e poi appunto altri temi che riguardano appunto la politica siamo anche su Open il primo piano ovviamente dedicato ancora una volta al caso migranti Albania cosa succede dopo il nuovo stop dei giudici ai migranti in Albania tutto fermo fino a luglio no si continua il governo spera nella corte di giustizia europea e intanto potrebbe congelare gli hotspot anche se a dicembre arriverà la cassazione le zone insicure dei paesi sicuri la disapplicazione e i costi del CPR questa appunto l'home page scelta da Open come vedete siamo ancora una volta sullo scontro magistratura governo in sostanza sulla questione che riguarda l'immigrazione il nuovo centro appunto in Albania torniamo sull'Ansa invece per un aggiornamento per quanto riguarda la guerra ci porta a parlare ancora una volta del terreno ucraino l'ultimato di Mersa di natura elettorale Mendevev se i missili Taurus a Kiev guerra in fase più pericolosa queste le parole l'eventuale fornitura di missili tedeschi a Kiev non cambierà il corso delle ostilità in Ucraina ma aumenterà il rischio che il conflitto raggiunga la sua fase più pericolosa lo scrive su Telegram il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo e poi ancora è chiaro che questi missili non sono in grado di cambiare nulla di significativo nel corso delle operazioni militari invece prosegue l'ex presidente russo la loro consegna è solo un modo per prolungare l'agonia del regime di Bandera comenta riferendosi al nazionalista ucraino Stefan Bandera ma gli attacchi con i missili cruis aumenteranno il rischio che il conflitto raggiunga la sua fase più pericolosa e queste appunto sono le notizie che invece arrivano dal fronte bellico tuttora aperto ovviamente in Ucraina restiamo ancora sull'ultima ora del page dell'Ansa che riporta appunto tutte le notizie dell'ultima di questi istanti oltre alle parole di Mattarella su un pensiero a chi ha donato la vita per la pace volevo cercare gli ultimi aggiornamenti anche per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente la delicata appunto questione che riguarda il Medio Oriente bombardamenti israeliani nella notte a Khan Yunis Gaza e ancora appunto si continua a parlare di bombardamenti centrato un internet caffè che ospitava i rifugiati questi sono gli ultimi aggiornamenti che possiamo trovare sul sito dell'Ansa l'emittente Arab al Jazeera afferma che almeno 11 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite questa notte in un attacco aereo israeliano vicino a Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza aeri da guerra avrebbero colpito il distretto Almawasi centrando un internet caffè e dei tendoni che ospitavano rifugiati palestinesi precedentemente sempre al Jazeera aveva dato notizia di altre 5 morti per raid israeliani sulla città di Gaza e su quella di Beinanun nel nord invece delle enclave palestinese la protezione civile di Gaza da parte sua segnala almeno 14 vittime e decine di feriti per gli attacchi delle ultime ore sulla striscia le forze di difesa israeliane hanno annunciato questa mattina anche 4 soldati sono morti ieri in combattimento invece nel nord della striscia di Gaza e questi sono invece gli ultimi aggiornamenti che arrivano sulla delicata questione che ancora una volta tiene al centro il Medio Oriente andiamo ora per un ultimo aggiornamento prima della pausa a leggere quelle che sono le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella un pensiero a chi ha donato la vita per la pace il presidente della Repubblica appunto Sergio Mattarella ricorda l'attentato di Nasseria nella giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace il pensiero va a coloro che animati da profondo senso del dovere dedizione e coraggio hanno donato la propria vita per l'Italia e per i valori della pace e della cooperazione internazionale a 21 anni dal tragico attentato di Nasseria rinnoviamo la memoria dei 19 italiani che persero la vita in quell'orribile atto di violenza lo afferma appunto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ricordo appunto dell'attentato di Nasseria torniamo a Pavia sì perché volevo portarvi nelle pagine interne del Corriere per parlare di un caso che sta diventando quasi una telenovela parliamo dello stadio di San Siro primo piano siamo nelle pagine di Milano simboli e infrastrutture offerta per San Siro entro il 31 marzo a luglio la vendita sarà contestata in aula il sindaco fischiato in consiglio comunale dai comitati c'è una data oltre la quale non si può andare Milan e Inter dovranno presentare la loro offerta d'acquisto di San Siro e delle aree limitrofe entro il primo trimestre del prossimo anno prezzo fissato dall'agenzia delle entrate 197 milioni in modo da arrivare a luglio con la firma del contratto di compravendita e schivare così la tagliola del vincolo sul secondo anello che scatterà a ottobre del prossimo anno quindi si parla del 2025 i fondi della vendita come chiede un ordine del giorno del PD è votato da una buona fetta della maggioranza e a eccezione di cinque consiglieri saranno usati per riqualificare il quartiere di San Siro investire sull'emergenza abitativa e la riqualificazione degli impianti sportivi della periferia aula gremita come mai negli ultimi tempi il sindaco Beppe Sala dopo le polemiche per la mancata comunicazione al consiglio comunale degli sviluppi della trattativa con i club ha ripercorso gli snodi principali di questa vicenda infinita non tralasciando un affondo nei riguardi di qualche consigliere non meglio identificato il futuro di San Siro è diventato un tema estremamente divisivo che ha provocato uno scontro tra blocchi contrapposti con una discreta dose di opportunismo politico da parte di alcuni a sua volta Sala è stato però contestato dal pubblico in aula formato in gran parte dai comitati contrari alla costruzione di un nuovo stadio al termine dell'intervento del sindaco si sono alzati in piedi fischietto in bocca sventolando cartellini rossi e urlando vergogna Sala nel suo intervento sottolinea che ha sempre agito in difesa dell'interesse pubblico ricorda come i club abbiano dovuto cambiare i loro piani che all'inizio prevedevano una volumetria pari allo 0,63 grazie alla legge sugli stadi legge nazionale e rientrare nei limiti dello 0,35 previsti dal PGT che ha provato a convincere le squadre a ristrutturare San Siro i club sono operatori particolari che agiscono in regimi di monopolio e se non vogliono ristrutturare non li possiamo obbligare si difende dall'accusa di non essersi opposto alle pretese delle squadre a meno che qualcuno possa immaginare che se facessimo muro i club rinuncerebbero alla costruzione di uno o due stadi altrove dirò di più non uno stadio ma due perché le squadre non hanno mai dato la disponibilità di avere lo stesso stadio se non a San Siro l'Inter non ha mai dato la disponibilità per San Siro e il Milan per Rozzano quindi l'alternativa era o lo stadio a San Siro o due stadi in aree relativamente verdi chi vuole illudersi lo faccia pure non io arrivo oggi alle manifestazioni di interesse presentate da Milano e Inter stiamo ipotizzando un percorso che ci porti alla conclusione della vendita entro l'estate concretamente significa che entro il primo trimestre ci deve arrivare l'offerta di acquisto con il piano di fattibilità aggiornato aspetto questi atti perché come abbiamo visto che il percorso è stato tutt'altro che lineare e questo è uno dei casi che sta tenendo alta l'attenzione anche a livello nazionale scopriremo insomma cosa verrà deciso per San Siro grazie Elisa Santa Maria e noi ci fermiamo soltanto per qualche istante a tra pochissimo etgp2day eccoci di nuovo insieme con la seconda parte della trasmissione allora riprendiamo dalla rassegna stampa online andiamo a vedere come sono cambiati gli aggiornamenti abbiamo visto questa mattina occhi puntati ancora una volta sulla nuova decisione del Tribunale di Roma che di fatto si rifà alla sentenza della Corte di Giustizia europea per quanto riguarda i migranti in Albania ancora una volta lo scontro tra maggioranza ovviamente tra il governo e i magistrati siamo sul Corriere della Sera in primo piano ancora una volta il caso Albania il Tribunale di Roma stoppa al trattenimento di sette migranti in Albania arrivati a Brindisi durante la notte l'ira del governo tre ragioni per convincere i giudici europei lo abbiamo detto la decisione del Tribunale di Roma sempre alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea Salvini dice sentenza contro gli italiani poche settimane fa era successa un'altra simile cosa appunto ad altri 12 migranti era lo scorso 16 ottobre poi ancora l'intervista in esclusivo sul Corriere parla Steve Bannon i soldi sono finiti se l'Europa tiene all'Ucraina ce li metta lei Meloni ponte con l'Europa non ci serve intervista appunto all'ex stratega della presidenza Trump Meloni ritorni alle posizioni che aveva prima di diventare premier con Donald il Maga e Forte ci prenderemo sicurezza nazionale e politica estera e poi ancora una serie di articoli ovviamente correlati che fanno ancora una volta il punto sulle ultime elezioni americane e poi si parla si torna a parlare di economia con i provvedimenti Tass riapre il concordato c'è tempo fino al 12 dicembre Manova 4.500 emendamenti tre fasce detrazioni le novità sull'IRPEF le proposte di modifica la legge di bilancio dalla riduzione della licora IRPEF dal 35 al 33% alla rivalutazione delle pensioni minime al turnover delle forze dell'ordine siamo su Lanza il primo piano invece resta dedicato alle parole di Fitto in audizione al Parlamento europeo dice non sono qui per rappresentare un partito di uno Stato ma l'Europa intera e torna a parlare appunto del ruolo che l'Europa deve svolgere dal punto di vista della coesione dice agirò sempre e soltanto nell'interesse della nostra Unione e dei nostri cittadini per la prima volta un vicepresidente avrà un incarico per la coesione appunto oggi voterei a favore del next generation europeo la nostra assenzione era una posizione di attesa e queste sono le dichiarazioni che arrivano durante l'audizione al Parlamento europeo fitta al test finale ultime riserve nei socialisti l'incognita intanto che resta per quanto riguarda i liberali e ancora sull'home page ovviamente la decisione del Tribunale di Roma quindi la questione dei sette migranti che sono rientrati dall'Italia quindi nel nostro paese dall'Albania il Tribunale di Roma appunto sospende il provvedimento e poi torniamo a parlare purtroppo di aggressioni adesso andremo ad approfondire poi la notizia aggredito il primario del pronto soccorso di Lamezia Terme colpito con un manganello siamo ancora su Repubblica il primo piano è cambiato si parla della strategia quindi torniamo a parlare di guerra Ucraina Russia si combatte in profondità con droni e missili la guerra sfiora la regione di Mosca i media intanto dicono una nave russa con missili Zircon nella manica il mistero della telefonata con Trump Putin la nega perché è in imbarazzo il retroscetta politico che oramai tiene anch'esso banco da giorni ma torniamo a dare la linea a Elisa Santamaria si Vittoria io Mirial c'era la questione violenza perché c'è un'interessante intervista sul Corriere della Sera l'uso disinvolto del coltello è vissuto come una moda il procuratore capo questa esplosione di violenza ci ha colto impreparati ci si fa ci si riferisce in particolare ai giovani in questa intervista di Elisabetta Andrei sa dispetto della percezione a Milano e provincia siamo sempre nelle pagine interne del Corriere il numero dei reati predatori ovvero piccole rapine furti è stabile deve fare riflettere invece l'aumento della violenza in particolare delle rapine con l'utilizzo di un'arma quasi sempre un coltello 80 episodi degli omicidi dei tentati omicidi che nel giro di tre anni sono passati da 5 a 8 i 24 dell'ultimo anno dice Luca Villa procuratore capo presso il tribunale per i minorenni di Milano che lettura si può ipotizzare a questa serie di eventi di eventi violenti si chiede la giornalista in tanti casi sono ragazzi con genitori integrati spesso italiani il loro disagio si sfoga con rabbia a casa aumentano gli episodi di maltrattamento contro i familiari nell'ambito di relazioni personali tra pari o durante risse occasionali quel che accade sfugge alle categorie di pensiero cui siamo abituati è difficile persino formulare l'idea di un movente tecnicamente valido dal punto di vista giudiziario in che senso il disagio gravissimo non viene tempestivamente intercettato né dalla famiglia né dalla scuola né dagli adulti di riferimento la violenza negli stadi si può ricondurre al tifo che diventa patologia quella delle gang di latinos si rifaceva a codici che animavano certi contesti qui invece restiamo disorientati di fronte alla leggerezza con cui le armi vengono utilizzate quasi che la vita agli occhi dei ragazzi avesse poco valore la cronaca dice anche di adolescenti armi da fuoco continua in calza la giornalista a Milano riscontriamo un utilizzo disinvolto del coltello devastante nelle mani di chi non è in grado di controllare rabbia e frustrazione procurarselo è facile e portarlo addosso è vissuto come un fatto normale se non una moda simitizza il coltellino quali sono gli ambiti su cui lavorare ragioniamo insieme alle forze dell'ordine su vari temi in particolare sui minori non imputabili perché infraquattrodicenni sono assolutamente contrario ad un abbassamento dell'età imputabile ma non interrogarli per evitare possibili traumi sembra creare una sorta di deleteria impunità può essere utile invece sentirli per coinvolgerli per fare capire al minore e dai genitori il significato delle regole e il danno che recano a se stessi e agli altri per verificare se l'atto deviante non debba essere inquadrato come sintomo di un malessere da intercettare tempestivamente anche sull'istituto della irrilevanza del fatto stiamo facendo valutazioni la discrezionalità della giurisdizione minorile rischia di sfociare nell'incertezza e nell'imprevedibilità delle conseguenze perdendo la connotazione educativa che la caratterizza e poi c'è la prevenzione quali sono le priorità conclude la giornalista ridurre la dispersione scolastica sostenere le attività sportive di squadra perché siano accessibili a tutti e restituire ai ragazzi il gusto di una sana socialità la grinta di misurarsi in vari contesti non necessariamente strutturali dagli adulti la creatività in ogni sua forma in una parola la passione di vivere Vittoria i fatti di cronaca degli ultimi tempi ci fanno capire quanto queste parole siano davvero centrate sugli avvenimenti che purtroppo dobbiamo siamo costretti a commentare ogni giorno grazie Elisa Santa Maria effettivamente sempre più spesso i giornali e la stampa tornano ad occuparsi del disagio giovanile anche appunto che spesso sfocia in delinquenza siamo sul sole 24 ore che nell'home page effettua una vera e propria panoramica di quelle che sono le notizie salienti della giornata almeno della mattinata un focus sul codice della strada monopattini con obbligo di assicurazione targa e casco per tutti i forbetti della targa estera addio alla polizza straniera e poi ancora la nuova commissione europea l'abbiamo visto le parole di Fitto qui non rappresenta un partito ma il mio impegno è per l'Europa tutta la diretta ovviamente su quanto sta accadendo per i lavori della nuova commissione europea e poi dal mondo nave russa con missili Zircon si esercita nella manica Mosca nega la telefonata Trump Putin non ci fermiamo le prime mosse intanto di Trump per alzare il muro sull'import e poi ancora ovviamente un articolo dedicato alla giornata dei mercati con le borse e poi il decreto anti-infrazioni il lavoro arriva alla nuova stretta sui contratti a termine ecco come cambiano e nel testo appunto tutto il decreto con un particolare focus sulla questione lavori la nuova stretta in particolare sui contratti a termine andiamo a leggere però l'articolo che troviamo sull'ANSA che riguarda ancora una volta le aggressioni che avvengono all'interno degli ospedali in particolare nel pronto soccorso non è la prima volta appunto che ce ne occupiamo l'ultimo caso appunto in ordine cronologico riguarda l'aggressione di un primario del pronto soccorso di Lamezia Terme colpito con un manganello da un parente di una degente il primario del pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme è stato aggredito ieri sera dai parenti di una degente che doveva essere dimessa dal reparto di osservazione breve intensiva il primario durante il colloquio con i familiari stava spiegando che il periodo di osservazione clinica era terminato l'iter diagnostico concluso e la signora poteva rientrare a casa con la terapia che era stata appunto prescritta dai sanitari uno dei tre parenti che erano presenti al colloquio ha cominciato a inveire contro il medico opponendosi alla dimissione della donna quando il primario si è girato per entrare nella sua stanza poi lo ha colpita la schiena con un manganello che teneva nascosto sotto un giubbotto ancora una volta appunto un caso di violenza aggressione che avviene ai danni di sanitari che avviene all'interno poi di strutture sanitarie in questo caso il pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme siamo ancora sull'ANSA in primo piano lo vedete ancora l'audizione di Fitto con quello che appunto dovrà rappresentare all'interno del contesto europeo prende vita la nuova commissione l'audizione appunto al Parlamento europeo la diretta presente su diversi siti Fitto dice agirò sempre soltanto nell'interesse della nostra unione dei nostri cittadini oggi voterei ancora una volta dice a favore del Next Generation la nostra astensione riporta quella che era stata appunto tempo fa la mossa del governo era una posizione di attesa e poi intanto è arrivato un flash che troviamo appunto nell'ultima ora che riguarda le parole che arrivano dalla russa proprio sul caso Albania abbiamo visto Salvini che è intervenuta ha parlato di sentenza contro gli italiani la russa sul caso Albania decida la corte europea credo sia quella la sede giusta per definire il tema controverso credo che sia un tema oggi molto controverso e credo che alla fine una parola decisiva debba arrivare c'è stato un ricorso alla corte europea può darsi che sia quella la sede giusta per definire quello che secondo me è un problema che sarebbe stato meglio non fosse sorto ma visto che è sorto in qualche modo dobbiamo definirlo lo ha spiegato appunto il presidente del senato Ignazio Larussa a margine di un evento al palazzo di giustizia a Milano rispondendo ovviamente ad una domanda dei cronisti sul nuovo stop dei giudici al trattenimento in questo caso di sette migranti nel centro in Albania e come dicevamo fin dall'inizio della trasmissione adesso arriveranno anche le dichiarazioni da parte dei politici italiani su questo nuovo stop torniamo al Corriere della Sera torniamo a parlare di un caso di cronaca che ovviamente ha sconvolto l'intera Italia e non solo il caso che riguarda il delitto di Giulia Tramontano in Pagnatiello perché l'accusa parla di triade oscure e chiede l'ergastolo il delitto di Giulia ha un viaggio nell'orrore il delitto di Senago i PM chiedono carcere a vita a 18 mesi di isolamento lucido e freddo ammesso solo quando era spalla al muro in lui psicopatia narcisismo e machiavellismo la difesa schiacciata dal senso di colpa voleva farsi scoprire un narcisista criminale freddo senza scrupoli che dopo aver progettato per settimane come eliminare Giulia Tramontano il bambino che lei portava in grembo di 7 mesi la massacra con 37 coltellate per togliere di mezzo e proseguire indisturbato la relazione con l'amante per l'accusa è questo è molto peggio Alessandro Impagnatiello e merita l'ergastolo con 18 mesi e l'isolamento diurno un uomo fragile e misero che in un rapto succide la donna che aveva scoperto il suo tradimento e invece dice la difesa chiedendo clemenza ed una pena detentiva invece inferiore all'ergastolo e poi ancora appunto Impagnatene impassibile in aula chiuso nella gabbia degli impiudati a due metri da Familari di Giulia il 31enne ex barman dei locali dei VIP del centro di Milano per l'intera udienza appare impassibile e poi tutte quelle che sono ovviamente anche le sensazioni che sono state vissute da quanti riportano poi l'articolo che ritroviamo sul Corriere della Sera su un delitto quello di Senago che ha davvero colpito tutta l'Italia appunto l'Italia intera apriamo adesso un focus che ci porta a parlare di esteri ci porta a parlare ovviamente di economia politica dello scacchiere internazionale in cui anche l'Italia dovrà necessariamente avere un ruolo di primo piano e lo facciamo con Marco Lupis scrittore grazie e buongiorno per essere qui con noi buongiorno a voi allora ombre cinesi sull'Italia le mire espansionistiche di Pechino appunto il suo libro il libro di Marco Lupis che riporta l'attenzione sui rapporti e le influenze del colosso asiatico sul nostro paese il libro inoltre è secondo classificato nella sezione saggistica al premio internazionale di letteratura città di Como allora lei nel testo evidenzia come la menaccia cinese ovviamente per quanto riguarda il nostro paese non sia da sottovalutare già nel 2020 in prena pandemia il Copa si rilanciava l'allarme proprio sui pericoli legati alla penetrazione cinese in molti settori che riguardano la vita italiana diciamo che quest'allarme poi è stato un po' mi passi il termine oscurato quasi meno censurato non volontariamente di certo ma dall'emergenza sanitaria in atto quindi ovviamente dalle notizie che arrivavano sul sul covid appunto era il 2020 oggi però non possiamo più ignorare quest'allarme assolutamente io direi peraltro che le preoccupazioni più che legittime e più che serie sulle influenze i tentativi i numerosi tentativi di influenza della Cina in Italia sulle istituzioni sul mondo imprenditoriale in termini addirittura che arrivano allo spionaggio sono state un po' messe in secondo piano non solo da quello che ha detto lei cioè dall'emergenza sanitaria a suo tempo ma anche soprattutto direi dall'emergenza guerra in Ucraina dove sono diventate anche per il nostro paese apparentemente più urgenti le influenze russe nel mondo e in particolare anche sull'Italia per influenzare appunto l'opinione pubblica italiana ma la Cina rimane un grosso problema al punto che il mio libro che ho definito quando appunto durante la premiazione a Como domenica e sabato che ho definito un libro necessario non perché l'abbia scritto io ma ce ne vorrebbero poi altri non soltanto il mio e direi che è un libro addirittura che andrebbe integrato in continuazione perché i tentativi e le preoccupazioni sulle infettazioni cinesi in Italia sono praticamente non dico quotidiane ma si rinnovano continuamente proprio un paio di giorni fa è emersa durante la conferenza stampa del sottosegretario Mantovano una preoccupante collaborazione tra un grosso istituto di agraria di medicina agraria e un colosso delle biotecnologie cinesi a Shenzhen la città diciamo gemella in territorio cinese di Hong Kong che si occupa di sequenziare il genoma umano è una collaborazione veramente che andrebbe tenuta sotto controllo siamo tutti d'accordo perché potete immaginare che cosa potrebbe significare per i cinesi avere in mano inevitabilmente migliaia di dati medici privati di cittadini italiani e comunque scoperte mediche questo perché non è soltanto una questione di quando si lavora o si fa una joint venture o si collabora con le aziende cinesi in pratica si collabora col partito comunista cinese perché le aziende in Cina non sono diciamo libere di muoversi ma sono tenute obbligatoriamente da una legge che risale a circa 4-5 anni fa a collaborare pienamente dare la piena collaborazione con l'intelligence cioè i servizi segreti cinesi su qualsiasi cosa che riguardi la loro attività anche e soprattutto sull'attività con aziende estere a semplice richiesta sotto pena lo sappiamo di punizioni gravissime di finire in qualche cosiddetto campo di rieducazione attraverso il lavoro assolutamente senta riallacciandomi a quanto lei ha detto ha detto sì quest'allarme lanciato poi è stato ignorato da una parte appunto dalle notizie che arrivavano per l'emergenza sanitaria e quindi la pandemia dall'altra però con lo scoppio della guerra in Ucraina abbiamo guardato più che altro all'influenza della Russia sull'Italia sull'Italia ma oggi secondo lei ancora così viene sottovalutata questa minaccia cinese da parte almeno dell'istituzione o comunque degli organi competenti oppure c'è un sentore anche alla luce delle nuove elezioni americane quindi della vittoria di Trump io non solo penso che venga tuttora sottovalutata ma addirittura che ci stiamo orientando verso un atteggiamento tutto sommato più morbido per motivi molto pratici la cosa può essere riassunta per esempio dalla recentissima ancora ieri era in Cina l'ultimo giorno visita del nostro Presidente della Repubblica Mattarella appunto in Cina una visita più volte a lungo richiesta dal governo cinese perché poi lo scopo era quello di ricucire quello strappo che si è creato quando il governo Meloni non ha rinnovato giustamente a mio avviso quel insano protocollo della via della seta che era stato a suo tempo figurato in Italia durante il governo Conte esatto unico esempio di paese italiano atlantico che aveva firmato un genere con grandi diciamo censure da parte di tutti i nostri alleati cominciando dagli Stati Uniti e il fatto è che lo si vede nel campo dei veicoli elettrici insomma se i nostri ascoltatori seguono un po' l'attualità il fatto è che la Cina resta un mercato e un un gigante economico che non si può valutare la mia impressione spero rimanga solo un'impressione è che l'Italia malgrado questa grande svolta in senso diciamo ideologico correttamente di principio del governo nello staccarsi da questo abbraccio mortale del protocollo video reseta la mia impressione è che comunque anche questo governo si stia orientando verso una certa forma di maggiore realpolitik cioè come dire va bene tutto sì certo c'è la Cina presenta dei problemi li sappiamo diritti umani spionaggio infiltrazioni appunto come quelle che il mio libro racconta e riassume però poi ci sono gli affari poi c'è il business poi ci sono le aziende italiane c'è gli imprenditori italiani in Cina c'è la produzione cinese che a noi serve eccetera eccetera quindi questa è un po' la mia impressione non solo sottovalutazione ma forse delibera un po' di forse di deliberato ammorbidimento ecco ammorbidimento ma io appunto non a caso le ho fatto il riferimento alle ultime elezioni americane la vittoria di Trump si parla appunto di Dazi potrebbe in qualche modo questo mi passi il termine svegliare l'Italia sulla minaccia cinese beh questo è un problema molto ampio che avrebbe bisogno di venire trattato diciamo da solo perché la vittoria di Trump che in Italia è stata festeggiata secondo me in modo abbastanza superficiale per non dire persino stupido determinate forze politiche di destra come la Lega per esempio come un con grande manifestazione di gioia in realtà si potrebbe rivelare se Trump rispetterà i suoi impegni esatto che sono quelli di colpire anche il mercato europeo con dei Dazi il nostro mercato si potrebbe trasformare in una vera tragedia economica per noi e in questo senso una tragedia che ci accomunerebbe in una sorta di mal comune mezzo gaudio con la Cina sì perché Trump ha promesso anche stratosferici Dazi alla Cina ora tutto il problema è quello diciamo che ho un pochettino riassunto per quanto riguarda l'atteggiamento politico italiano lo stesso la stessa considerazione le fanno anche gli Stati Uniti le farà anche Trump cioè la Cina d'accordo va tenuta sotto controllo per usare un termine elegante però non si può fare a meno quindi bisognerà vedere quanto perché chiaramente la Cina poi reagisce ha già reagito con contro contro Dazi contro misure insomma il problema è che a livello globale la Cina non può fare a meno dei mercati occidentali dei ricchi mercati occidentali su cui vendere i suoi prodotti ma noi ricchi chiamiamoci così occidentali non possiamo ancora fare a meno della Cina per un sacco di motivazioni di ottime motivazioni soprattutto di tipo economico e quindi bisognerà vedere quanto Trump effettivamente attuerà queste grandi dichiarazioni elettorali ecco si spera che venga più miti consigli e rimangano dichiarazioni elettorali per l'Europa per la Cina è difficile prevedere esatto in caso saremo compagni di sventura come diceva senta un'ultima domanda per quanto riguarda sempre il suo libro lei lo mette bene in evidenza nel titolo del testo ma pure all'interno analizzando appunto questi rapporti le volevo chiedere di fondo poi è un tentativo di rispondere al fatto se riusciremo o meglio l'Italia riuscirà a controllare le mire appunto spazionistiche di Pechino secondo lei è una grossa scommessa perché ripeto apparentemente non ci sarebbe niente di male anzi nel stringere accordi a livello appunto soprattutto imprenditoriale o anche diciamo statale ufficiale con dei partner stranieri tra cui la Cina però l'Italia deve tener conto come tengono conto tutti i paesi del mondo oramai che come detto prima gli accordi stretti con entità cinesi sono poi stretti con il governo cinese che è il partito comunista cinese che governa senza contraddittorio come partito unico la Cina da ormai più di 70 anni e che insomma non si può definire sicuramente un regime liberale la Cina per concludere direi che sarebbe utile leggere il primo capitolo anche soltanto nel mio libro quello che parla di questo fronte unito che è un'organizzazione in seno al governo ufficiale in seno al governo cinese esiste da molti decenni che ha proprio lo scopo dichiarato di raccogliere consenso nei confronti della Cina e di spargere quello che loro chiamano corrette informazioni ma in realtà è disinformazione all'estero per appunto sollecitare questo consenso e piegare in qualche modo l'opinione pubblica straniera a quelli che sono i principi e gli obiettivi cinesi grazie grazie davvero per essere stato qui con noi a Marco Lupis grazie soprattutto per aver fatto chiarezza ad avere indagato questo aspetto appunto questo di la potenza cinese spesso non preso in considerazione grazie ancora e buon lavoro e noi torniamo alla rassegna stampa lo abbiamo letto in realtà in apertura della trasmissione ora però è diventata l'apertura dell'home page del Corriere della Sera appunto il commento che arriva da Musk sui migranti sulla questione migranti in Albaria che si scaglia contro i giudici italiani e dice se ne devono andare la decisione appunto del Tribunale di Roma sul trattenimento il fondatore di Paypal e Tesla ha commentato su Twitter o meglio su X oramai la notizia della sospensione della convalida del trattenimento dei sette migranti appunto nel centro in Albania siamo davvero in chiusura torniamo velocissimi a Pavia Sì per un veloce saluto oggi vi abbiamo raccontato le notizie principali attraversando la città di Pavia si è aperto il cielo è uscito anche il sole e da Pavia è tutto Grazie Elisa Santa Maria per i collegamenti di questa mattina per è tutto per oggi per l'edizione per questa edizione di EtG più today l'appuntamento ovviamente torna domani mattina sempre a partire dalle 10 e 30 vi ricordo però l'appuntamento con la prima edizione del telegiornale a partire dalle 12 e 30 grazie per averci seguito e come sempre una buona giornata